Ciao, mi chiamo Tess Amadeo Vickery e sono una cantatrice americana che vive qui a Roma. Fare musica è la cosa più bella e divertente che secondo me esiste nel mondo di fare perché è la vera espressione della tua anima, è come fare danza, tipo saltare, in aria, tipo è il modo in cui tu puoi esprimerti al tuo massimo. Una canzone è la vera espressione dell'anima secondo me, tutte le canzoni che scrivo io sono le cose che non riesco a dire o a gestire e ti aiuta pure a processare le emozioni che sono le mie cibi. Penso che è molto carino vedere tutto il diverso talento, a me piacerebbe se c'erano più persone sedute ascoltando e non bevendo e chiacchierando, però va va, è così. Ho bevuto acqua. Sei sicura? Sì perché non bevo mai prima di suonare, infatti molto prima a cena ho bevuto due bicchieri fino, però qui bevo acqua, magari un po' cosa dopo.